Sono le 10.30 a Giuliano e i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia sono in borghese per un servizio antirapina. Si va a passo d'uomo nel traffico di via Frezza quando i militari notano due ragazzi a bordo di uno scooter, indossano caschi e scaldacollo su quel mezzo che anche senza tagga i carabinieri li seguono. I due passano davanti a una farmacia affollata, rallentano e guardano all'interno ma poi proseguono fino ad arrivare nei pressi di una tabaccheria dove decidono di fermarsi. Il passeggero fa per scendere e mette la mano sulla cintura, intervengono i carabinieri. L'auto ci vetta davanti allo scooter e i carabinieri si qualificano intimando l'alt. I malviventi scappano e parte l'inseguimento tra sorpassi e manovre pericolose. Lungo il tragitto il passeggero lancia una pistola ma l'inseguimento continua fino a via Arco Sant'Antonio all'altezza del cimitero dove i carabinieri riescono a bloccare i due e ad arrestarli. Iniziano le perquisizioni e gli accertamenti, il passeggero indossa altri abiti sotto quelli visibili mentre l'arma lanciata viene recuperata. Una pistola beretta modello 34 calibro 7,65 con matricola a brasa e 5 colpi nel caricatore. A finire in manetta il 25enne Davide Porro di Giuliano, il passeggero, e il 26enne Alessandro Pastore di Qualiano, l'autista. Sono già noti alle forze dell'ordine. Le perquisizioni che si estendono anche a casa dei due permettono di rinvenire e sequestrare nell'abitazione di Porro un panetto di hashish e alcune dosi tra marijuana e altra hashish per un peso complessivo di 117 grammi. A casa di Pastore, invece, i carabinieri hanno trovato un lampeggiante a magnete di quelli utilizzati dalle forze dell'ordine, una paletta segnaletica con gli emblemi della Guardia di Finanza, 5 colpi cali prodorici, bustine e bilancini. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere ripoggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di tentata rapina, detenzione e ricettazione di arma clandestina, resistenza pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente e possesso di segni distintivi contraffatti.